Profeto anche per Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo Ecco, il Signore è venuto con migliaia e migliaia dei Suoi angeli per sottoporri tutti a giudizio e per dimostrare la colpa di tutti riguardo a tutte le opere malvagie che hanno commesso e a tutti gli insulti che da impi peccatori hanno lanciato contro di Lui Così dalla lettera di Giuda, il capitolo il primo, i versetti sono il quattordicesimo, il quindicesimo